ok, con questo video aggiungiamo un piccolo plus, chiamiamolo così, al nostro cronometro aggiungeremo un paio di pulsanti, un pulsante che andremo a fare adesso che ci servirà per fermare e far ripartire il nostro cronometro e un secondo pulsante che sarà una zara questo ci dà modo di vedere anche un po' la parte grafica all'interno di Scratch aggiungiamo un nuovo sprite ok, utilizzo questo pulsante, vedete che ha già due costumi lo sistemo qui in basso, poi sistemeremo la sua posizione, la sua grandezza vado in costumi, vedete che ho già il pulsante azzurro che si chiama Button2A lo useremo per i riprendi e questo invece per il ferma lo faremo partire proprio da questo costume ok, aggiungiamo una scritta e scriviamo pausa avete visto che ho cliccato su questo pulsante per scrivere il testo riclicco, lo seleziono, cambiamo il colore io preferisco mettere il bianco a questo punto lo allarghiamo un po' di più in modo tale che prenda un po' tutto il pulsante con scritto pausa poi andiamo in quello azzurro sempre con la scritta e scriviamo riprendi poi scegliete voi cosa fare lo riposiziono con la freccia in questo modo lo allargo perfetto in questo modo ok torniamo su codice e iniziamo a far lavorare il nostro codice intanto la parte iniziale io preferisco sempre lavorare tramite codice per modificare il nostro sprite non vado a modificarlo direttamente come grandezza e tutto direttamente all'interno ok o meglio riduco il minimo posizione, grandezza e quant'altro preferisco gestirle tramite codice allora situazioni si deve sistemare quando io premo la bandierina verde facciamo uno zoom in modo tale che riusciate a vedere un po' meglio vado a dargli prima la dimensione quindi vado in aspetto prendo il blocco porta dimensione ok anzi facciamo così piccolo trucco non lo collego subito clicco vede che si ridimensiona perfetto lo sposto un pochino benissimo e poi dobbiamo dirgli di partire non da questo blocco ma dal costume il B vediamo se è questo eccolo qua il pausa va benissimo quindi dovrà sempre partire da questo da questo costume benissimo aggiungiamo dato che ci siamo anche un blocco via x ok in modo tale che il pulsante sia sempre in questa posizione i valori che vengono inseriti sono se vedete i valori esattamente dove si trova adesso il nostro pulsante bene adesso dobbiamo fare in modo tale che quando io clicco sul pulsante e sto usando il costume button 2B quindi a in pausa devo mandare il nostro cronometro di fermarsi se invece è di cambiare costume quindi andare al costume riprendi se invece è sul costume riprendi cliccandoci sopra dovrà far ripartire il nostro il nostro cronometro allora ritorniamo in situazioni in modo tale che possiamo usare un nuovo blocco che è quando si clicca su questo sprite vedete che ha sempre la stessa forma di quello della bandierina ok quindi è un blocco delle situazioni degli eventi allora quando clicco su questo sprite cosa succede? devo verificare se sto usando uno o l'altro costume allora andrò in controllo ok utilizzerò un se allora altrimenti quindi se sto usando costume allora farò determinate cose altrimenti ne farò delle altre vado in operatori prendo il nostro solito blocco per determinare l'uguaglianza cosa devo verificare? che il blocco che sto utilizzando adesso sia il costume scusate che lo sprite il costume di questo sprite che sto usando adesso sia il costume button 2 B ok che è quello del pausa perfetto se è questo costume allora passerò al costume riprendi però fermerò tutto fermerò il mio cronometro allora torno in aspetto in aspetto c'è la possibilità verso il fondo di vedete numero costume in realtà in numero costume posso utilizzare anche il nome posso usare uno o l'altro indifferentemente se uso il numero naturalmente devo andare a verificare qual è il costume il numero del costume perfetto se il nome del costume è questo quindi è quello riferito alla pausa cosa succede? mi deve passare all'altro costume passa il costume a e però mi deve fermare tutto quindi vado in controllo e prendo il blocco ferma tutto ok in questo modo quando io clicco si ferma tutto però devo fare anche la funzione di riprendi ok per riprendere adesso in questo momento torno sullo sprite della lancetta il cronometro parte quando io clicco sulla bandierina verde qui dobbiamo fare una piccola modifica devo utilizzare un evento particolare che troviamo nelle situazioni che è i messaggi io posso inviare al verificarsi una determinata azione un determinato evento un altro un altro evento e lo gestisco tramite i messaggi prendo questo blocco qui il penultimo invia tutti messaggio 1 e creo un nuovo messaggio che si chiamerà cronometro utilizzeremo oppure se volete lo chiamiamo start cronometro faccio scrivo in questo modo senza fare parole separate ok ci manca un'altra cosa che è il blocco di passare al costume quindi se faccio ripartire dovrò tornare al costume B in modo tale che il pulsante passi da riprendi a pausa bene invia tutti start cronometro perfetto a questo punto vado in sprite devo raccogliere quel comando come faccio vado in situazioni e userò questo blocco che assomiglia a quello delle bandiere ok e dove lo uso la bandierina verde per questo mi deve rimanere in ogni caso ok e gli altri invece dovranno partire quando ricevono il comando start cronometro allora potrei fare duplicare tutti questi lasciarli così com'è quindi quando parte la bandierina verde oppure potrei anziché duplicare tutto e aggiungere il start cronometro possiamo ridurre al minimo questa cosa togliamo la bandierina verde ok vedete tolgo tutto e aggiungendo solo 4 blocchi senza duplicare tutte queste cose possiamo possiamo fare ancora in maniera anche diversa ma è interessante fare questa cosa vedete che aggiungo il start cronometro in questo modo ecco qui perfetto e aggiungo anche qui il comando invia tutti start cronometro perché adesso non funzionerebbe più perché se io premo la bandierina naturalmente tutto il resto non funziona allora però posso fare questa cosa invia tutti start cronometro quindi quando clicco adesso proviamo le varie funzioni se clicco sulla bandierina il nostro cronometro parte naturalmente le variabili vengono conteggiate a questo punto se il nostro pulsante funziona vediamo viene fermato tutto vedete e appare il pulsante riprendi proprio perché premendo c'era il costume B ok passiamo al costume A che è quello dove noi abbiamo scritto riprendi e viene fermato tutto se adesso noi clicchiamo su riprendi riparte il nostro cronometro il costume passa al costume B quello dove abbiamo scritto pausa e non parte da 0 semplicemente perché la gestione delle variabili del valore a 0 ce l'abbiamo quando premiamo la bandierina verde ok quindi con questo sistema noi abbiamo creato un piccolo stop diciamo del nostro pausa e riprendi del nostro cronometro facciamo un'ultima aggiunta perfetto aggiungiamo un altro pulsante ok lo posiziono qui sul lato cambio un attimo il colore tanto per identificare non cambiamo la forma ma cambio i colori vedete che scratch ci dà la possibilità di lavorare anche con colori con due o tre colori quindi ecco qui qui la cosa è molto semplice devo azzerare devo azzerare i valori e portare tutto le variabili a 0 è abbastanza semplice le variabili naturalmente le gestisco dove nello sprite della lancetta allora andiamo sul pulsante che abbiamo appena aggiunto anche qui facciamo usiamo il quando si clicca su questo sprite aumentiamo lo zoom sempre per farvi vedere meglio inviamo anche qui un messaggio nuovo messaggio lo chiamiamo a 0 perfetto andiamo nello sprite qui duplichiamo questa parte anzi si duplichiamo questa parte ok togliamo l'invia a tutti che non ci serve e usiamo solo il blocco quando ricevo ok portiamo tutto a 0 in questo modo in modo tale che parta sempre dalla posizione iniziale ok quindi senza usare la bandierina verde allora se noi usiamo la bandierina verde come prima lasciamo i 58 59 scatto dell'ora premo pausa premo riprendi riparte se noi premiamo il pulsante di azzeramento torna tutto a 0 vedete ripremo e riparte sempre da là quindi possiamo utilizzare abbiamo creato un piccolo cronometro che gestisce secondi minuti e ore abbiamo usato creato un pulsante di pausa e di ripresa quindi possiamo stoppare e far ripartire il nostro cronometro come anche senza usare il pulsante della bandierina possiamo in ogni momento resettare il nostro cronometro e lui riparte da 0 bene con questo video abbiamo terminato la creazione del cronometro troverete un altro video non in questa playlist per come creare uno dei modi per creare un orologio